e ciao a tutti ragazzi sono the mister e benvenuti in questo nuovissimo video di turbo di smout siamo nel ventiquattresimo episodio e siamo al diciottesimo episodio dei browser level in compagnia ovviamente di loris 98 ospitati sul suo canale allora ragazzi vediamo eccomi qua raga loris 98 la scorsa volta ho vinto io let's go vediamo se riesco a fare il double match vincente allora vediamo prossimi tre livelli iniziamo con fly oddio infatti volano già via i meli volano volano vabbè iniziamo proprio bene raga c'è la tua strada la polizia perché la c'è un po di casino devo fermarli tutti poverini tutti incasinati là sotto ce la farà il nostro eroe arrivare dall'altra parte arriva la polizia a bloccare tutti guarda che bel salto vediamo un po' che casotto oh che bello che bello ma dove sono finito se fai il camion la eh la curiosità qua ragazzi incastrato tra due macchine e la smartina che ho colpito io si è partita via la smart è quella col crash iniziale guardate ma riporto da dietro e vola via guarda i can fly ma subito raga ma subito aia col sasquatch di nuovo aia sei già fatto male com'è possibile già sei già fatto male ragazzi eh ma non ci credo sì sì raga non ci credo ragazzi eh sì qua non c'è nulla c'è imbarazzante cioè non però come zero un petto cosi piccola vediamo un po' fino a 911 pino a me nel senso reggirà si è sotto per il нас ufficiale perazzo ufficiale assoluto ok ko aldeen quando aggiungi ho già un Naturaluri Ma vai a letto No, ma ragazzi, ma siamo volati narissimi Piovono macchine Piovono ruspe Dai, vediamo te cosa riesci a fare Va bene Onesto, onesto Con il Sasquatch anche lui Io con lui, sì Spero che mi vada Oltretto, eccolo lì Ah, peccato, peccato Vediamo un po' per i punti adesso, sono curioso dei punti Un po' debolino, effettivamente Però Mi stai ancora facendo Forse il veicolo mi sta facendo Non vorrei dire No Questa volta Ho visto che hai fatto tanti punti Ho visto che hai fatto tanti punti te Lui ha atterrato in piedi Intero Eh, no, niente Procediamo Chex activize Va bene, sapete cosa faccio? Bus contro bus Quasi full Va bene Vediamo Ah, tra l'altro, zero punti Non ha giocato ancora nessuno qua Oh Bello, bello Mi piace Alla faccia dei punti, raga Non succede Stai laggando tantissimo da me Qua scusate ma c'è un piccolo ritardo di tutti i pullman impilati Casino totale Dove vanno? Ma dove va? Ma dove va? Dove che andate? Quanto è il palazzo di London E quello lì Vai Ma davvero? No, no, te la faccio rifare Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando ragazzi No, ma stiamo scherzando Veramente C'è questa proprio Ah, ma che fail Voglio metterlo qua E basta Vai a letto E basta Vediamo Eh, bello Bello In pieno ci cadi Bellissimo Bello Bello Eh sì Bello Opla Non c'è nulla da dire Olè Bravissimo Olè Bravo 10 milioni Questo è un bello chapeau E si porta a casa un'altra vittoria Loris qua Zitto zitto Eh ragazzi Ragazzi C'ero quasi C'ero quasi Eh sì Ma anche questa Se la porta a casa Loris98 Ragazzi Per questo episodio è dunque tutto Magari ce la rifaremo nel prossimo Per chi ti fa team The Mister Ma anche questa volta Loris98 Mi ha battuto Bravo Loris Bravo Grazie Ormai così Dai ragazzi Allora Se non l'avete ancora fatto Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi E ci vediamo nel prossimo episodio Di Turbo Dismount Un saluto da The Mister E Loris98 E Loris98 Bella